Buongiorno a tutti e bentornati al corso gratuito di trading online più completo di YouTube Italia. Iniziamo ora l'undicesima lezione dove vediamo le correlazioni. Le correlazioni sono uno degli elementi del trading online più importanti e più utilizzati dai trader professionisti e uno dei meno considerati dai trader neofiti, dai trader perdenti. Le correlazioni ci permettono, e già adesso voglio crearvi un po' di hype, di avere delle conferme nelle nostre analisi. Perché possono esserci delle fasi di mercato, dei momenti in cui la nostra analisi ci sembra buona, ma andare a vedere la correlazione con un altro strumento finanziario può darci quel vantaggio in più. E quindi le correlazioni ci danno questo, cioè ci danno una conferma. E state scherzando, avere delle conferme quando si investe nel trading online non è cosa da poco. Detto questo, per spiegarvi le correlazioni voglio farvi questo esempio. Si sente dire, ma poi si sente dire perché è giusto, che il mercato può trovarsi in due fasi, in bull market e in bear market. Ci sono due fasi di mercato, bull market e bear market. Quando si parla di bull market, si dice, significa che i prezzi salgono. Quando si parla di bear market, significa che i prezzi scendono. Ma salgono e scendono di cosa? No? Di cos'è che salgono e scendono? Non è che possono salire di tutti gli strumenti finanziari i prezzi quando c'è un bull market e scendere di tutti gli strumenti finanziari quando c'è un bear market. No. Quando si parla di bull market, significa che stanno salendo i prezzi delle azioni. E quando si parla di bear market, chiaramente significa che stanno scendendo i prezzi delle azioni. Ma se salgono i prezzi delle azioni, secondo voi qual è l'altro strumento finanziario, l'altra categoria di strumenti finanziari che probabilmente salirà con forza? Ebbè, gli indici. Perché se vi ricordate, nella lezione sugli strumenti finanziari abbiamo proprio visto che gli indici sono dei panieri di azioni, dell'insieme di azioni. Allora se salgono i prezzi delle azioni, saliranno anche i prezzi degli indici. Questa qui, quindi che c'è tra indice azioni, è una correlazione. Al contrario, se scenderanno i prezzi delle azioni, scenderanno anche i prezzi degli indici. Giusto? Allora, questa qui che vedete, è una correlazione positiva molto forte. Andiamo a vederla al grafico, per capirci meglio. Ci troviamo qui su, partiamo su meta, no? Passiamo meta, guardiamo, guardiamo meta nel 2022. Come si è comportata tra il 2022 e il 2023? Beh, direi che non c'è tanto da dire, no? Per market, l'azione scende. Andiamo a vedere un'altra azione, andiamo a vedere Amazon. No, andiamo a vederla nel 2022. Eccoci qua, guardate, 2022, 2023. No, vedete? La zona tra le due barre blu, vedete? Il mercato è sceso. Andiamo ora a vedere come si è comportato il Nasdaq, ma prima di vederlo, basta che vediamo come si sono comportati questi due titoli. Se questi due titoli hanno perso così tanto, probabilmente il Nasdaq sarà sceso, perché il Nasdaq ha una correlazione molto forte con questi due titoli. Talmente forte perché addirittura questi due titoli fanno parte del Nasdaq, quindi sono una componente del Nasdaq. Però, noi, vedendo il movimento di questi due, possiamo già capire che il 2022 non è stato un buon anno per il Nasdaq. Infatti, se lo andiamo a vedere qui, notiamo subito come tra il 2022 e il 2023 il Nasdaq abbia preso delle belle stangate, no? Anche qui è sceso, vedete? Nasdaq, Meta, Amazon. Tutti insieme, questa è una correlazione. Ora, diamo una definizione proprio tecnica di correlazione. La correlazione tra due strumenti finanziari avviene quando il movimento su uno strumento corrisponde in modo positivo o negativo al movimento del secondo. Le correlazioni poi possono essere di tre tipi. Quella che noi abbiamo visto è una correlazione positiva, perché se sale uno, sale l'altro. Se scende uno, scende anche l'altro. Quindi, qui, 2022, per Amazon è stato negativo, per il Nasdaq è stato negativo, no? Andiamo ora a vedere, magari, l'anno qua, dal posto, dalla fine della pandemia o comunque dal momento in cui i mercati hanno iniziato a riprendersi. Quindi, possiamo dire, da marzo 2020, andiamo a prendere questo, marzo 2020, inizio 2022, andiamo a vedere Meta, tra marzo 2020, eccolo qui, e inizio 2022. Vediamo, no? Qua il trend è rialzista e anche sul Nasdaq il trend è clamorosamente rialzista. Quindi, possiamo capire che le correlazioni ci danno un'informazione in più sui nostri strumenti. Qua però voi dite, vabbè Silvio però mi dà un'informazione, cioè, di un anno, cosa me ne frega? Beh, cosa ce ne frega fino a un certo punto? Perché possono esserci delle fasi di mercato in cui possiamo trovare delle conferme anche guardando le singole candele giornaliere. E lo vedremo nel corso di questa lezione. Un esempio, no? Proprio che ci ha dato quell'informazione in più che ci dice, ok, allora c'è da muoversi in questo modo. Andiamo ora a vedere com'è una correlazione, invece, negativa. È se cresce uno, scende l'altro. Se scende uno, cresce l'altro. Una correlazione negativa, abbastanza forte, conosciuta, è quella che c'è tra il dollaro americano e l'oro. Andiamo a vederla. Il dollaro americano ha avuto, nell'ultimo periodo, nell'ultimo periodo poi da quando sto registrando, cioè possiamo dire da novembre 2022 fino a dicembre 2022, quindi sto parlando di questa zona, no? Una forte discesa. Allora il dollaro è negativamente correlato con l'oro. Quindi se io vado a prendere l'oro, potrò notare come tra novembre 2022 e oggi l'oro è salito. Il dollaro è sceso molto, l'oro è salito. Questa qui è una correlazione negativa. Se cresce uno, scende l'altro. Se scende uno, cresce l'altro. Quindi possiamo trovare conferme. Immaginiamo di stare a negoziare magari il gold. Non sappiamo se vale la pena comprarlo in un determinato momento, se è il momento giusto. Qui addirittura vediamo che segna un triplo minimo in questa zona. Ve la traccio anche. Allora diciamo, ma potrebbe romperlo, potrebbe non romperlo? Beh, andiamo a vedere il 4 di novembre cosa sta facendo il nostro gold, il nostro dollaro americano. Guardalo qui però. Tra il 3 e il 4 di novembre. Qua vediamo proprio questo, guardate. Qua già ci dà quella conferma in più. Qua già abbiamo quello che vi stavo dicendo, quelle conferme necessarie. Qui vediamo che è l'oro. E scusate che il dollaro americano, questo è l'indice del dollaro americano. Sta facendo dei minimi decrescenti. Scusate, dei massimi decrescenti. No? Guardiamo. Ecco qua. Tac, tac, tac. L'oro ci sta disegnando un triplo minimo. Allora possiamo aspettarci una grande forza dell'oro. Possiamo pensare che questo minimo funzionerà. Perché funzionerà? Beh, perché il dollaro sta perdendo di forza. E quindi abbiamo una conferma in più. E dite niente. No, no. È fondamentale. Si dà tanta sicurezza a questo. Tanta forza. Ora, andiamo a vedere invece l'ultimo tipo di correlazione, che poi non è neanche una correlazione, quando la correlazione è assente. Cioè, i movimenti di uno non influenzano i movimenti dell'altro. Qua, di correlazioni assenti ce ne sono quante volete. Cioè, ad esempio, le azioni ENI non sono minimamente correlate col cambio JBPOD. Ok? Cioè, non c'entra niente il movimento delle azioni ENI col cambio JBPOD. E ne possiamo trovare quanti ne volete. Quindi, comunque, vi basti sapere che quando c'è una correlazione tra strumenti finanziari, è importante che questa correlazione sia forte, che questa correlazione duri nel tempo, e quindi che possa darci delle conferme in più sui movimenti di quello strumento finanziario. Come abbiamo visto qui, il caso dollaro-oro. Questa qui è stata proprio un caso in cui la correlazione già ci diceva, ci faceva pensare, che il triplo minimo sull'oro avrebbe funzionato. Perché il dollaro americano stava facendo massimi decrescenti. Ora, visto questo, andiamo a vedere quali sono poi le principali correlazioni. Adesso vi faccio vedere le principali, ce ne sono anche delle altre, e vi consiglio poi dopo di informare, di informarvi personalmente su Io decido di tradare questo strumento finanziario benissimo con cosa è correlato. Ora vi do le principali. Questa è proprio una parte formativa, che può esservi utile, però poi dopo andate voi a informarvi, a specializzarvi. E' questo che serve. E' specializzarsi su uno strumento finanziario e capire bene quali sono le correlazioni che questo ha. Vediamo un po'. Allora, principali correlazioni. Allora, correlazione positiva, indici e azioni. Positiva, no? Abbiamo visto. Meta, scende, Naldac. Eccolo qua. Scende. Correlazione positiva. Nessun tipo di problema. Andiamo a vedere. Alta correlazione, indici europei, tra loro positiva. Guardate. Andiamo a prendere il DAX. Guardiamo il movimento del DAX. Ve lo disegno col pennello. Adesso pacciugo tutto. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Andiamo a vedere il movimento della Francia. Praticamente identico, no? Guardate. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. Movimenti praticamente identici tra Germania e Francia. Questi indici sono strettamente correlati perché sono tutti indici europei. Quindi diciamo che se l'Europa va bene, l'indice tendenzialmente va bene. Quindi se ci troviamo in un momento abbastanza indeciso, magari sull'indice francese che non sappiamo se si muoverà o meno, andiamo a cercare magari delle conferme sull'indice tedesco. Cerchiamo di capire se giornalmente, se nell'ultimo periodo c'è stato qualche tipo di reazione, no? E vediamo se le nostre analisi trovano conferme. Naturalmente anche l'indice italiano è correlato a questo. Infatti se vedete anche il movimento, anche qui è praticamente identico. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Però anche sull'indice italiano è correlato a questi. È un'informazione importante. Qui, tra questi tre, adesso non lo sto a fare perché ci vorrebbe del tempo, ma per i movimenti che ci sono stati si possono trovare informazioni molto, molto importanti che nel breve termine ci danno un vantaggio importante, un vantaggio statistico molto importante. Viste le correlazioni, indici europei tra loro positiva, indici americani tra loro positiva, no? Andiamo a vedere il Nasdaq, questo è il 2022. Andiamo a vedere per l'S&P 500, no? Altro indice americano, questo è il 2022. 2022, andiamo a prendere la linea verticale, 2022, eccolo qui, 2022, fine 2022, eccolo qui, vedete? Entrambi poi dopo sono mossi nella stessa identica maniera. E anche qui si potevano trovare delle conferme tra questi anche nel breve termine. Molto importante. Visto ciò, andiamo ora a vedere le altre correlazioni. Indici americani tra loro positiva, quindi scende uno, scende l'altro, sale uno, sale l'altro. Dollaro e oro negativa. Dollaro e oro l'abbiamo già vista. È proprio questa qui dove abbiamo anche trovato la nostra conferma di cui parlavamo prima. Ecco qui il gold ed ecco qui il nostro dollaro americano. Ora, visto anche questa correlazione, andiamo alla prossima, andiamo belli spediti, oggi cripto e indici positiva. Questo è una cosa interessante che si è venuta a scoprire poi dopo in realtà nell'ultimo anno che ci sia una correlazione così interessante tra le cripto e il mondo degli indici. Però effettivamente questa correlazione c'è e non è una correlazione fortissima però è bene saperla perché se vediamo il 2022 come si è mosso BTC, prendiamo BTC come cripto in generale, no? Vediamo che BTC ha avuto un importante trend ribassista che si è confermato anche sul Nasdaq e sull'S&P 500. Quindi possiamo dire che le cripto sono correlate positivamente con gli indici? Sì, sappiate che non è una correlazione fortissima, è una correlazione ancora da dimostrare nel lungo termine perché le correlazioni poi dopo cambiano nel corso del tempo e quelle molto forti rimangono ma insomma c'è da dire che le correlazioni molto forti poi dopo rimangono nel tempo ma anche queste tendono ad avere delle variazioni. Quindi è bene sapere che le correlazioni ci sono, sono un elemento forte però insomma è comunque sempre statistica, non stiamo parlando di certezza matematica. Visto ciò, quindi i cripto indici c'è una correlazione positiva non fortissima, andiamo a vedere la prossima, CHF oro positiva. Il franco svizzera ha una correlazione positiva con l'oro, questo qui si verifica perché entrambi sono strumenti risk off. Risk off significa che quando gli investitori hanno un po' paura e vogliono tutelare i loro investimenti, pensano che il momento non sia dei migliori per investire, hanno paura di crolli eccetera, vanno a comprare strumenti finanziari risk off. Quindi oro e CHF. Ora andiamo a vedere un attimo, la salita che c'è stata dell'oro tra novembre e i primi di gennaio la vediamo già qui molto decisa. Andiamo a vedere ora come si comporta il cambio USD-CHF. Vedete che tra novembre e gennaio c'è stata anche qui questa forte spinta a ribasso. Bisogna dire poi dopo che il cambio USD-CHF non solo è stato aiutato dalla correlazione col gold, ma il fatto che il dollaro americano sia il numeratore del cambio, quindi vuol dire che un calo del dollaro americano chiaramente porterà a un calo anche del cambio USD-CHF, perché USD è al numeratore. Diciamo che qui spinge più forte che a ribasso rispetto magari che ad altri cambi, perché? Perché c'è anche il CHF che munge la macchina, ecco capite? E quindi va giù un po' più forte. Visto questo andiamo ora a vedere l'ultima correlazione, che anche questa è importante, che è quella tra dollaro e indici. Qui è interessante capire che questa correlazione dipende. È una correlazione che dipende dai casi. Non è una correlazione sempre identica, perché il dollaro, qui si inizia a parlare di macroeconomia, ma vi voglio fare il discorso, il dollaro tende ad avere una correlazione positiva con gli indici quando l'economia americana sta bene. Cioè l'economia americana è forte, allora l'S&P 500 si apprezza, il dollaro tende a crescere, tende ad essere forte. Al contrario però succede che quando poi dopo l'economia americana rallenta, allora anche il dollaro rallenta. Però se accade una crisi globale, quindi capite? Un conto è se l'America rende un po' poco, un conto è se c'è una crisi globale, la paura di una recessione globale, la paura che accada un disastro incredibile. Allora qui cosa succede? Che il dollaro fada bene il rifugio. Perché la gente inizia a comprare dollari? Perché l'economia americana comunque è l'economia che comanda, è l'economia più forte che abbiamo e quindi il dollaro inizia ad apprezzarsi perché permette agli investitori di stare un po' più tranquilli. Perché fa da bene il rifugio, quindi magari ci sono delle fasi di mercato in cui l'S&P sale e il dollaro sale e quindi qui si parla di correlazione positiva. Al contrario possono essere delle fasi, quando ci sono delle crisi mondiali, in cui l'S&P scende ma il dollaro comunque sale perché fa da bene il rifugio. Ora qui vi ho preparato tutta la tabellina con le correlazioni nel Forex, vi dico come leggerla poi dopo ve la commentate un po' voi perché insomma se no questo video dura un'infinità e ci sono troppe informazioni. Allora, vedete che se la correlazione è 100 vuol dire che sono strettamente correlate al 100%, se uno sale di uno 0,1 l'altro sale di uno 0,1. Beh, euro dollaro ed euro dollaro è chiaro, JVPUSD e JVPUSD è chiaro, stesso cambio per forza. Mentre se le correlazioni si vede che tipo NZDUSD è fortemente correlato negativamente con USDN. Questo chiaramente è dovuto al fatto che qua USD è al denominatore mentre su USDN è al numeratore e quindi ha correlazione così, è forte. Altra correlazione molto forte che vi faccio notare poi dopo le altre ve le commentate, ve le vedete voi, è questa qui. Quella che c'è tra NZDUSD e ODUSD perché l'OD e l'NZD, quindi il dollaro australiano e il dollaro neozelandese, sono strettamente, fortemente correlati tra loro. Le altre correlazioni sono un po' meno importanti, comunque vi consiglio di guardarle, tipo euro yen, USD yen, entrambe, correlazione diretta molto forte perché entrambi yen al denominatore. Comunque, le correlazioni vi ricordo sempre che cambiano e quindi possono esserci delle variazioni nel corso del tempo. Quindi questa tabellina qui è quella che mi sembrava la più corretta per i dati che forniva, in base anche alle mie conoscenze, però comunque date sempre un occhio alle correlazioni, informatevi in base agli strumenti finanziari che poi dopo tradate. Visto ciò, chiudiamo questo video perché sono importanti le correlazioni, beh, mi sembra molto evidente. Uno, perché ci permettono di avere delle conferme in più sulle nostre analisi, esempio che abbiamo fatto prima tra gold, guardate qui, e dollaro americano. Una conferma in più, e butta la via una conferma in più, soprattutto una conferma così, enorme. E poi dopo, altro motivo, perché ci permettono, conoscerle, ci permette di allocare in maniera intelligente il nostro capitale. Esempio, andiamo subito all'esempio. Qui nella tabellina so che AUDUSD è correlato positivamente molto con NZDUSD, se ho 10.000 euro da investire, è da pollo investire 5.000 euro long su AUDUSD e 5.000 euro long su NZDUSD, perché praticamente andrà nella stessa direzione. Quindi è come se io metto tutti i miei soldi nella stessa cosa. Capite? Quindi mi raccomando, questa qui è una cosa importante. Come è da pollo avere 10.000 euro e mettere 5.000 euro nell'S&P 500 e 5.000 euro nel NASDAQ. Perché? Perché sono due indici che andranno nella stessa direzione. Quindi è come se io mettessi tutto il mio capitale nella stessa cosa. Questi sono i motivi per cui le correlazioni sono molto importanti. Questo è tutto quello che riguarda il mondo delle correlazioni. Mi raccomando, scegliete i vostri strumenti finanziari e andate poi a conoscere, ad approfondire bene le correlazioni che hanno i vostri strumenti finanziari. Questo vi fornirà un vantaggio statistico incredibile. Detto ciò io vi ringrazio per la visualizzazione e noi ci vediamo nel prossimo video.